Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Francesco Lomonaco sui corpi di Giuseppe ed Emanuele Alabi, suo padre e figlio. Morti a causa di un incidente aereo mentre a bordo di uno stormo a 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli in direzione Foggia. Ieri pomeriggio nella sala mortuaria del cimitero di Lipari da parte dei familiari è avvenuto il riconoscimento cadaverico dei propri cari. Le salme dovrebbero giungere a Gela, probabilmente venerdì. Subito dopo si terranno i funerali. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare le cause dell'incidente che comunque si rivelano piuttosto delicate anche perché questi piccoli aerei non sono in possesso della scatola nera. Per di più il velivolo è letteralmente colato a picco a 12 miglia a nord della vulcanica isola eoliana. Tra le ipotesi più attendibili si pensa ad un problema tecnico o ad un malore del pilota. Poco prima che Emanuele Alabi, su 26 anni, studente universitario, partisse con il padre alla volta della Puglia. Lo stesso sul proprio profilo Facebook aveva scritto direzione Foggia, tempo permettendo. Parole che a distanza di qualche ora appaiono come un funesto presaggio. La madre, Enza Scollo, aveva scritto un messaggio. Buon volo, amore mio, che Dio ti protegga. Avvisami quando arrivi. Intanto si susseguono messaggi di cordoglio giunti in redazione. La situazione Pionieri e Veterani e in iniziazione di Gela si associa al dolore della famiglia Alabiso. La Fidas Adas sottolinea che nel tentativo di portare a compimento il suo volo della solidarietà, Alabiso aveva dimostrato enorme sensibilità nei confronti della donazione del sangue. La sezione di Gela dell'Atmo, si legge in una nota, perde due carissimi amici e due paladini della solidarietà. Condoglianze anche da parte del Consiglio Direttivo della pubblica assistenza Procivis.